Caras oras e caras fras. La legge di Mose, che è venuta sentenziata alla morte. Il doctore della legge ed il vero, ma in la donna, a cui Gesù per miracolo declara ed interpreta la legge di Mose. La vita di quella popra donna dipende tutta la decisione di Gesù. Per Gesù è quella in gruntiù che Gesù, da Mose, con passione, ed libera-la di tutto male e di tutto male. Gesù sa che buca la donna, ma bene, il s'agge la fine mira ed il intent dels doctors della legge ed dels farises. Elis volen procurar per inaccesion des aver sententziar il sin fundament di sies decisiones e quai affa. Il s'agge la fine mira ed il s'agge la fine mira. che Iesus accette l'immagine insieme con i bucanti. È una buca idea che Iesus veniva a leggere e a decidere in quella situazione, in una situazione nua che la legge di Mose ha già deciso. Ceumos Iesus gronda compassion con quals che annigin sostegne e ottenen negina carizia. Durante che tutti stavano entorno la donna, con crappa in mano, embraccia Iesus la donna con un cor che perdona, un cor che carezza. La tenuta di Iesus in da quals cas vesainus, già tir il stisport con Nicodemus. Perciai Dievus abucca termesiu fel il mon, per quel truvesci il mon, ma bain, per quel mon venis in gravus entra sel. quale dimnos l'Evangelii di John. Cura che il spedendente in da Iesus la sentenzia, scriva il ruasaiblame incun in et, il sablune. Forza che il ha scritto, il sablune, la nuova legge della carizia ed in nervo reglament per le condizioni di vivere in carizia. Cura che Dievus ha scritto con indietro, si l'estabile, decrava il condimento per il piede d'Israele. Ora, sia sentenziai clara e capaibla, qual dovuscai senza bucau, fieri il imprimcrab sin ella. Il pretenda il tisaders dammirà il agen cor ed examinà l'ur maniera da vivere. Qua la donna è venida, traplata durante che ella ha rotto la legge, tento in quale valimenti fuven anche altre persone partecipate. Iesus vese l'ur lichtneri ed il confronto con quale se deportà turpeggio. Entend da dells, un forzaum plì culpons che quella paupera donna, attals gestiauns, scenda Iesus l'adamonda. ti simulader, ti la ilie imprimil quader ord tiù ell, lu sasti merà, co ti prendes le spriule ord ilia ell da tiù vra. Eesus intimesse e che è sentenziata alla morte. e la supplicatia bucae per orientazione, né per sclarimento da quale malpassa. il vuol bucae entra in una discussione teoretica su della legge di Moses. a Iesus vai ai sull'etamain da Musà, a quale donna qu'elles veni, spindrada entras la gronda carizia da Dio. Iliai Gesùn in una certa ironia, ironia qura che Iesus demande ella, donna, nu ha un'ells, anegin condamnautai. E lui suonde la sentenzia di Iesus che consolisce bucamo quale donna ma bain nus tots. era jau condamnel bucatai va e bucafai plì bucau. Mies caras soras mescars fraz en Christus Nies mund da venta in plì plagiivel e pajaiivel liug genus calain da condamna e giudica sur dils autis. Iesus vese nies fa e damenà. Il vese nus corse e nus tots dovrà in siu perdonament e sia infinita carizia. Iesus hai nies exempel in nus duessen a dina esser christiauns della carizia, christiauns che perdonen. Lain erenus, accepta, il invit di Iesus e vivere in una nuova vita senza bucau, in una nuova vita emplanida con la carizia da Dio. Ludaus a Iesus Christus, sempre sei Ludaus.